Paolo Malanga, la nuova direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma, ci ha parlato delle varie sezioni che ci saranno, anche delle novità. Cosa si sentirebbe di dire al pubblico a casa, soprattutto quello delle piattaforme streaming? Perché c'è bisogno, in un certo qual modo, di riportare il cinema a essere cinema e quindi di riportare il pubblico al cinema, in sala, al buio. Come si fa? Beh, intanto direi di provare, di ritornare. È un'esperienza che non ti può dare nemmeno il più bel salotto di casa tua, neanche il più grande schermo di computer o di televisiva. È qualcosa di diverso, è un'esperienza fisica, insieme ad altri, in una sala dove c'è solo quello, e quindi in qualche modo puoi sospendere, no? Vita quotidiana almeno per un'ora e mezza, per due ore, e a volte è terapeutico questo. Questi sono tutti dei motivi per reintrodurre, dopo un periodo di due anni, in cui siamo stati costretti a farne a meno, per reintrodurre nella nostra vita l'esperienza della sala. che io penso aggiunga qualche cosa che non si può raggiungere diversamente. Oggi si parla tanto di contenuti, sì, ma anche il come, anche la forma, anche con chi, anche quando, anche dove. Cioè io credo che la vita di tutti noi sia piena di ricordi, di souvenir bellissimi, delle nostre frequentazioni delle sale cinematografiche. Quindi conta anche la comunicazione. Sono sempre successe grandi cose nelle sale cinematografiche, film e non solo. Qual è un suo piccolo sogno o un suo buon proposito per questa festa del cinema, per questo suo esodio? Portare quanti più spettatori possibili a questa festa. Grazie. Grazie. Grazie.